Non solo cenoni e feste, ma sono molti i cittadini di Campobasso che accoglieranno il nuovo anno tra il calore delle relazioni familiari. Sicuramente lo passeremo in famiglia e questo è il nostro programma. Quindi a cena a casa e si attende la mezzanotte. Ho la fortuna di avere ancora i genitori, quindi a casa dei genitori attendiamo la mezzanotte. Personalmente in famiglia, con i figli, nipotino, poi diciamo così una passeggiata, però in famiglia diciamo. Sicuramente a casa, non so se la nostra o di amici, ma sicuramente a casa. E dopo la mezzanotte si resta a casa in compagnia? Beh sì, con i bimbi piccoli per forza. Tavole imbandite della tradizione culinaria per attendere l'arrivo della mezzanotte e per i più giovani una serata è un divertimento che potrà certamente proseguire. Menù tradizionale, sì, sì. Penso a base di pesce e poi zampone e lenticchie. E dopo la mezzanotte? Dopo la mezzanotte andremo a casa. Forse una passeggiata in città, in centro, se c'è qualcosa da fare, se il tempo permette e poi dopodiché andremo a casa. Cosa farete a Capodanno per aspettare la mezzanotte? Sicuramente dobbiamo ancora decidere, prendere una decisione sicura, ma crediamo resteremo qui in città. Dopo mezzanotte fanno un concerto a Selvapiano e credo che andiamo lì. Ma non tutti potranno partecipare alla festa. Un esercito di lavoratori del settore della ristorazione sarà infatti al lavoro per rendere indimenticabile la serata a chi sceglierà di festeggiarla nei locali. Purtroppo devo lavorare. Che lavoro fa? Lavoro nell'albergo, ristorante e albergo. E quindi è di turno? Mi tocca lavorare perché la struttura organizza cennoni e veglioni. Senta com'è lavorare quando tutti gli altri si divertono? Lo faccio da tanti anni e diciamo che ho fatto il callo. Abituato? Sì, ormai sono abituato.